Addio alle vecchie e comode panchine in legno situate sul molo del Lido di Fano. La settimana scorsa infatti si è provveduto a sostituirle con delle nuove. Fatte in marmo e sicuramente più resistenti all'acqua e dalla salsedine, le nuove sedute non sono affatto piaciute a coloro che durante una passeggiata amano sedersi comodamente ad osservare il mare. Oltre ad essere scomode e gelide ci fanno notare i fanesi che camminano sul molo, ad alcune manca pure lo schienale. Bocciate, bocciate del tutto, guarda. Non c'è nessuno, guarda. Non c'è nessuno sedere. Prima erano più frequentate? Sì, sono sempre gente, perché c'è un bel posto. Non ci si può manco sedere, qui è tutto bagnato, guarda. Prima quelle di legno filtrava l'acqua e quindi si asciugavano presto. Per non farle rompere, però le altre hanno durato una vita, perché forse bastava anche sistemarle, pulire. Anzi, sono rimasto sorpreso questa mattina, dico adesso vado là, vado a sedere nella panchina, così mi guardo bene il mare. E invece? Invece zero. Non è che sono molto funzionali per l'inverno, già sono tutte bagnate, poi saranno anche un po' fredde. Forse più funzionali quelle che erano in legno. Le panchine che c'erano prima non erano meravigliose, ma erano comodissime. Cosa che invece non sono queste. Va da sé che quelle senza lo schienale, è chiaro che non sono comode. In più, sono di marmo, per cui immagino d'inverno, anche in questa stagione, voglio dire, si gela il sedere, ecco. Mentre invece nelle altre erano tutto sommato ergonomiche e non erano poi così male. Mi sembrava incredibile che mettessero delle panchine nuove senza aver rifatto il fondo del moletto, che era la cosa prioritaria. A rispondere alle numerose segnalazioni sulle panchine del Lido è stato il sindaco di Fano, Massimo Seri, ospite ieri a Primo Cittadino. Non erano previste per quella zona, erano panchine in magazzino. Lasciarle in magazzino diventerebbe un altro delitto, perché si ammalorano e rispiamo di rovinarle. Quindi sono state poste su quella passeggiata. Intanto, per carità, non sono comodissime, però sono sempre panchine e abbelliscono quell'area. C'è anche la pavimentazione che non è messa bene, non per quest'estate, ma per quella successiva verrà risistemata. Stiamo pianificando l'intervento. C'è anche un ulteriore intervento. Nella Cavea si sta risistemando il verde, la sostituzione dell'illuminazione scenica. Poi verranno messe delle palme, quindi sono anche belli da vedere. Quindi anche lì avranno un tocco, un'eleganza maggiore, un passetto alla volta. Insomma, arriviamo dappertutto. Quest'anno? Sì, sì, adesso stanno già lavorando, oppure è questione di poco. Sì, sì, adesso stanno già lavorando.